Noi siamo piccoli, siamo appena nati, quindi non avremo nessun tipo probabilmente di possibilità entro la prossima tornata elettorale. Siamo consapevoli di questo. E' anche vero che in politica tutti hanno buone idee, tutti hanno ottimi programmi, tutti pensano che le loro idee, i loro programmi siano migliori di altri. E da allora, Presidente, non resta altro che abbassare la testa e vedere anche le opposizioni prendere più del 40% al primo turno. Se tutti sono più bravi di altri, allora evidentemente dovranno dimostrarlo. Deputati, i problemi dell'Italia non sono questi. Ministro, non è la legge elettorale. Ormai, Ministro, la disoccupazione giovanile al 43% ha una quota in termini purtroppo di preferenze molto superiori...